William d'Inghilterra passa il comando a Kate Middleton, da colonnella per la festa di San Patrizio. Non è San Patrizio senza una raggiante Kate Middleton che di verde vestita incontra il reggimento delle guardie irlandesi. E infatti eccola, la principessa del Galles nella sua nuova veste di colonnello del reggimento. Partecipa per la prima volta alla parata del santo patrono irlandese del primo battaglione delle Irish Guards foto-video. Kate Middleton allunga la mano, ma Limon rifiuta di stringergliela, che guff guarda. Elegante sotto la pioggia sotto la pioggia battente Kate e William sono arrivati ad Aldershot. In Hampshire, per la tradizionale parata. Kate una visione in turchese, con un look attentamente studiato per l'occasione. L'abito cappottino è stato creato appositamente per lei da Catherine Walker in modo da coordinarsi con la penna bleu delle Irish Guards. Dello stesso colore anche il fascinatore a forma di cuore di Jane Taylor, 1,650 euro. Sul petto una spilla cartiera a forma di trifoglio, abbinata a un paio di orecchini di smeraldo. Trucco minimale capelli sciolti, sempre più nel ruolo istituzionale di principessa. Molto diversa da come l'abbiamo vista solo qualche giorno fa, in tuta mimetica sulla piana di Salisbury, durante un addestramento militare. Grazie. 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 Grazie a tutti.